E' il tempo di rilevare il vincitore! Sono vivo! Allora, secondo voi chi ha vinto il potere del fake? Adri! Ok, ok, Adri! Il vincitore è... Adri! Grazie per aver supportato questa serie e ci vediamo nella season 2! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video!